Sara è una ragazza del mio nuovo liceo e io, ecco, non ho mai osato dirle niente perché mi vergogno. Stai attento. Poi un giorno l'ho sentita dire che le piacciono i vampiri e che scrive in una chat. Abbiamo la stessa passione, ho il mio lato strano. Lei vuole conoscermi alla prima di questo film sui vampiri. È solo che ora la cosa sta diventando sempre più complicata. Stavo per morire schiacciata e Javi mi ha salvata con una forza sovrumana. È un vampiro. Non so come dirle la verità. Bentornati sul mio canale YouTube. Pugnalami col paretto. Stavolta sono sulle tracce di qualcosa di grosso. Mori, vampiro! Non sono un vampiro! Perché fingi di esserlo? Per avere la ragazza dei miei sogni. Anni fa alcuni ragazzi del posto scomparvero. Ero convinto che dietro ci fosse... Un vampiro. Ho trovato quella creatura oscura. Svegliati! I vampiri non esistono! Non dica altro. Andiamo a caccia. Mamma! Dov'è il mio temperamatite? Si può sapere che state facendo? So che ti sembra tutto un po' folle. Ma ci prepariamo a uccidere un vampiro immortale. Tutto questo è molto strano. Mi sento come se ti conoscessi già. Non farà del male a Sara. Un vampiro! Sottuto vampiro dei miei coglioni! Figliolo, so che non è il momento. Ma adoro fare le cose insieme. La formazione è vero! Grazie a tutti Grazie a tutti